È un'iniziativa in cui siamo sinceramente orgogliosi, trasporto gratuito per gli studenti. Arriveremo quest'anno a 100.000 studenti che riceveranno un abbonamento gratuito. Ricordo che l'abbonamento riguarda studenti delle scuole medie, inferiori e superiori e delle università che hanno una distanza da casa di oltre un chilometro e un reddito ISEE non superiore a 35.000 euro. Questo comprendiamo quindi praticamente quasi tutte le famiglie Campania. Un risultato straordinario per il quale la Regione Campania investe 20 milioni di euro l'anno ed è un'iniziativa di cui siamo sinceramente orgogliosi. Provate a immaginare una famiglia che ha due ragazzi che vanno a scuola. Il costo medio dell'abbonamento è 320-330 euro. Significa spendere 650 euro più o meno. questo decide a volte la possibilità o meno di mandare a scuola un ragazzo o una ragazza. Quindi davvero una misura di grandissimo valore sociale.